Bentornati su MyFootballJersey. Oggi andiamo a vedere, a scoprire la maglia del Brasile, la seconda maglia del Brasile, per i prossimi mondiali, quelli in Qatar, in edizione Player, la maglia indossata dai calciatori. La maglia da calcio away della Coppa del Mondo Nike Brasile 2022 combina una base blu con il verde chiaro per lo swoosh. I colori ufficiali sono Paramount Blue, Dynamic Yellow, Green Spark. Il famoso stemma della Confederazione Calcistica Brasiliana si trova sul petto a sinistra con le stelle e la scritta Brasilin Giallo. La maglia da trasferta avrà maniche che molti hanno definito orribili. Sfumate dal blu Paramount Blue al verde neon, Green Spark, con macchie blu giallo che sembrano un motivo leopardato. La maglia si basa sul modello della Coppa del Mondo Nike 2022. Il Brasile ha avuto diverse divise da trasferta blu negli ultimi vent'anni, ma nessuna con lo swoosh verde. La maglia del Brasile ha sempre un suo fascino. Nella mia classifica questa prende tre stelle, veramente bella ma non una delle mie preferite. Peraltro trovate qui in alto quella della prima maglia che secondo me è meravigliosa. Comunque questa maglia è fatta veramente molto bene, il costo lo vedete bassissimo, tutte le rifiniture sono giuste, il tessuto della versione player io lo adoro, per me è straordinario. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per acquistare la maglia. Ora vi lascio alla parte finale in cui vedrete la vestibilità, nel frattempo spero possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.